Bene amici spesso leggevo sotto i video dei robot aspirapolveri che mi chiedevate come andavano i Roborock Curivo Non ne avevo mai provati, sono i Roborock con i mochi rotanti, li ho qua tutti e quattro, li ho messi alla prova Curivo S è il più essenziale, serbatoio dell'acqua sporca, dell'acqua pulita, qua l'aspirazione della polvere Non c'è un serbatoio per il detersivo che si può eventualmente aggiungere all'acqua pulita Lavaggio automatico dei mochi smontabile per la pulizia e LiDAR per un'ottima mappatura Laser per riconoscere gli ostacoli, doppio mocio che si può sollevare di un centimetro se non vogliamo lavare i tappeti Spazzola singola, 7000 PA di aspirazione, sensori per non farlo cadere dalle scale e sensore per capire se ci sono i tappeti La base ha l'asciugatura dei mochi ad aria calda Altezza 9.6 cm, bene il sollevamento dei moci e bene anche il livello di bagnatura del pavimento e il lavaggio e l'aspirazione in generale Bene anche il riconoscimento dei tappeti Ma lui non ha il mocio estensibile quindi lascia circa 2 cm sul bordo e non fa bene l'angolo come lavaggio Riconoscimento ostacoli, bene con le ciabatte, un po' meno bene con il cavo, vedete Il Curevo Pro secondo me è molto interessante perché non costa molto di più del Curevo S ma aggiunge due funzioni Una abbastanza utile, il lavaggio dei moci con l'acqua a 60 gradi E il riconoscimento se quest'acqua di lavaggio è tanto sporca per far ripulire la zona dove lui è appena passato E l'altra funzione secondo me è ancora più utile, il mocio laterale estensibile per arrivare fino al perimetro delle stanze con il lavaggio Per il resto è uguale, compreso il riconoscimento degli ostacoli un po' così così perché non ha la telecamera ma solo i laser E come vedete il mocio estensibile per pulire fino ai bordi fa tutta la differenza del mondo 7000 PA di aspirazione e sui tappeti devo dire bene come vedete ha alzato i moci che riabbassa quando scende E anche lui è sufficientemente basso, 9.6 cm Curevo Max V va a aggiungere al Pro la telecamera frontale per attivare il riconoscimento degli ostacoli migliorato La funzione di videosorveglianza e videochiamata E anche l'intelligenza artificiale per definire un piano di pulizie più puntuale Inoltre lui ha assistente vocale integrato personalizzato perché tutti i Roborock si integrano in Alexa, in Home e in Siri Ma lui può anche avere i suoi comandi Per il resto vedete molto simile al Curivo Pro con il lavaggio con acqua calda L'asciugatura dei moci e un'altezza però che è leggermente superiore 10,2 cm Il riconoscimento ha effettivamente una marcia in più Guardate come si avvicina lentamente alle ciabatte E vabbè adesso ha ricominciato il suo avanti e indietro Ma come gli arriva vicino per pulire tutto intorno Vedete guardate Voilà va indietro Le circunnavica e guardate come anche per il cavo Che è basso quindi i laser non riconoscono bene per quello che i precedenti facevano fatica Lui si tiene alla larga Ecco forse qua un pochino troppo alla larga ma l'intelligenza artificiale dice Ehi è un cavo si si aggroviglia sono casini Anche qua ottimo riconoscimento dei tappeti E appena giù dal tappeto voilà giù i moci con quello esterno Vedete E questo è il top di gamma Curivo Master La base sopra non cambia Ahimè neanche qua c'è il serbatoio per il detersivo Ma sotto si perché c'è il lavaggio automatico Della base qua nella sezione Pannetti che vengono anche qua lavati con l'acqua a 60 gradi E asciugati Altra grande differenza qua sotto perché la spazzola è doppia E questo per tappeti Moquette Per gli animali è veramente un grande valore aggiunto Anche qua il mocio laterale trasla si alza di un centimetro Ma qua trasla anche la spazzolina laterale Le altre caratteristiche sono simili se non che l'aspirazione qua arriva a 10.000 PA Ecco perché vi dicevo che per tappeti per gli animali è il top E ovviamente rimane la telecamera anteriore per AI Riconoscimento ostacoli Funzione Video sorveglianza La doppia possibilità del braccio rotante e del pannetto che escono Fa davvero di lui il campione degli angoli E anche dei tappeti perché ripeto la doppia spazzola e 10.000 PA Li aspirano veramente molto molto bene Forse l'unico limite che è il più alto di tutti 10,3 cm di altezza Ma per quanto riguarda lavaggio, aspirazione, spigoli Lui è il top Come il Max V ha la funzione di video sorveglianza Voi qua dalla mappa gli potete dare o un punto dove recarsi Oppure un percorso prestabilito Farlo tornare alla stazione di carica Potete anche guidarlo manualmente E volendo potete anche attivare la comunicazione bidirezionale Secondo che questa è una cosa carina Magari anche se avete animali domestici per controllare dove sono Dove vanno Cosa fanno Insomma è sicuramente un valore aggiunto Non sostanziale Ma un valore aggiunto Avete visto come vanno Avete visto anche le differenze tra il base e il top Ma i giudizi finali non possono che passare dal prezzo Lui il base Q Revo S costa 620 euro Vi do già i prezzi street E va bene Come vanno bene tutti Come vanno bene tutti i Roborock Tendenzialmente da quell'S5 che ho amato tanti anni fa Precursori dei robot aspirapolvere Ma lui non dico che ha delle mancanze Va bene Il problema è quel rapporto qualità prezzo Che viene surclassato dal Q Revo Pro Perché lui street costa solo 700 euro Quindi 80-100 euro in più Ma avendo il lavaggio mochi con acqua a 60 gradi Avendo il lavaggio ripetuto Insomma ha quelle funzioni Soprattutto di mocio laterale Che si espande e va a lavare anche i bordi Che mi fanno dire caspita per 80-100 euro Lui ha il miglior rapporto tra come va e quanto costa Quindi lui è il mio best buy Andando a questa parte il Q Revo Max V Anche lui è interessante Ha quelle funzioncine in più di analisi video Di intelligenza artificiale Di riconoscimento degli oggetti Costa 900 euro Ma anche qua con 100-120 euro in più Ci si porta a casa l'ammiraglia Che come avete visto Spazzolina che si sposta Che trasla Ma con tutte le funzionalità di intelligenza artificiale Ma anche con la base Che si lava automaticamente Ma soprattutto con il doppio rullo aspirante Fa sì che lui sia il migliore in assoluto E ok è quello che costa di più Ma il migliore per chi ha dei tappeti O per chi ha degli animali Che perdono tanto pelo Perché quella doppia spazzola Veramente fa la differenza Con anche la potenza di aspirazione maggiorata Quindi lui Max V Best Buy Lui il master il migliore Ma su tutto fatevi un robot aspirapolvere Perché vi cambia la vita E vi do un altro suggerimento Se avete una casa a due piani E non avete tanto budget Piuttosto che prendere un master E spostarlo da un piano all'altro Che ha poco senso Perché i panni Dovendo essere lavati dalla base È un casino Lui non può tornare alla base Che è un altro piano Quindi lo spostate voi O pulite i panni Insomma lasciate perdere Meglio due basissimi In base al budget che avete Rispetto a uno top Spero con questo video Di avervi aiutato E su tutto Roborox si riconferma Un grande brand Anche nei robot Con il mocio E non solo Con il pannetto Vibrante Ciao